Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Signore e signori, ben ritrovati sempre con i nostri video targati Alpha for All. Rieccoci anche questa settimana a vedere un po' la situazione in atto, le nuove opportunità e quindi sempre insieme a cogliere le migliori situazioni. Nel mio primo video dell'anno in cui abbiamo parlato degli asset vincenti, vi avevo parlato come tutti i segnali propendevano per un ribasso nel 2022 dei mercati o comunque sicuramente un momento di difficoltà per quel che riguarda l'azionario. Con grande onestà non mi aspettavo una discesa così rapida e soprattutto nel primo periodo dell'anno, ma la situazione è questa e non solo dobbiamo accettarla, ma dobbiamo trovare delle soluzioni vincenti. Infatti i periodi di crisi, come dico sempre, nascondono rischi, fallimenti e tante altre situazioni negative, ma anche tante opportunità. Infatti vi avevo spiegato come sicuramente l'azionario poteva soffrire tutto questo periodo di inflazione mentre le materie prime potevano beneficiarne. Quindi riprendiamo un po' questo argomento, ma non mi voglio soffermare sulle cose già dette, ma andremo a vedere anche qualche soluzione con qualche nuovo settore di cui non abbiamo ancora discusso in questa prima parte dell'anno. In particolare ci spostiamo su Alfa4Chart, in questo momento vediamo l'ETF QQQ. Si tratta del Nasdaq e vediamo come in effetti nelle ultime settimane c'è stata un'inversione piuttosto importante. Ci siamo bene o male fermati su questo valore di supporto che sono i minimi raggiunti ad ottobre. Certo il movimento realzista era partito da un periodo molto antecedente, però sicuramente una buona parte in pochissimo tempo se l'è già rimangiata. Vediamo invece come nello stesso periodo le materie prime hanno performato molto meglio andando a controbilanciare quel movimento negativo che abbiamo appena visto sul Nasdaq. Quindi certamente quello che è stato detto nei precedenti video abbiamo tutto l'interesse di ribadirlo, cioè di puntare su asset che in questo momento possono sicuramente far meglio dell'azionario classico. Già nei precedenti video i miei colleghi hanno dato delle informazioni interessanti e in particolar modo Andrea ieri ci ha spiegato come ci si può proteggere, diciamo anche assicurare attraverso le opzioni. Quindi questa può essere una prima soluzione per una protezione diretta sul portafoglio azionario che disponiamo. Le materie prime può essere invece inteso un po' come una rotazione del portafoglio o quindi spostarsi da asset che stanno facendo più fatica a asset invece che potrebbero sovraperformare la situazione generale. Tornando sui nostri grafici vediamo come il Nasdaq anche nel pre-market odierno sta soffrendo. Vedremo poi come si conclude la giornata ma un appoggio anche sui 14.000 che sono già stati ampiamente testati nella giornata di ieri non è assolutamente da escludere. Oltre a questo abbiamo parlato del settore delle granaglie. L'avevamo fatto insieme in effetti una settimana fa all'incirca. Vi dicevo come soprattutto il periodo primaverile poteva essere un periodo ottimo per le granaglie ma abbiamo già visto come gli ultimi giorni si sono rispostate in un ambiente positivo un po' tutte mais qui vediamo il grano e anche la soia. Ora nel breve termine attenzione perché si possono raggiungere prezzi più alti ma non vedo un'esplosione dei prezzi. Rimane il periodo appunto primaverile dove solitamente nasce una cosiddetto premio meteorologico dove possiamo vedere dei rally molto ma molto più significativi. Però ecco già un orientamento lato granaglie può essere sicuramente interessante. Oltre a questa situazione abbiamo detto come se siamo più abituati a muoverci sull'azionario e non tanto sulle commodities le aziende produttrici di materie prime potevano fare il caso nostro nell'ultimo periodo. Infatti vi avevo parlato di Rio Tinto un'azienda che diciamo estrae produce il rame e in effetti vediamo come l'andamento nell'ultimo periodo è davvero in controtendenza con quello del Nasdaq. Certo negli ultimi giorni ha sofferto anche lei però abbiamo in questo caso sicuramente preso per le ultime settimane un'azione che ha aiutato un po' il portafoglio. Oltre a questo abbiamo parlato anche di Exxon Mobil che è un'azienda produttrice diciamo di energia in particolar modo petrolio e gas. In effetti anche qui vediamo come negli ultimi giorni addirittura si sono fatti nuovi massimi mentre l'azionario classico scendeva. Chiaramente l'S&P 500 e altri indici hanno magari sofferto meno del Nasdaq ma comunque un'inversione e piuttosto significativa c'è stata. Quindi oggi andiamo a vedere qualche altro asset che potrebbe aiutarci in questo senso. Avevamo già parlato dei metalli preziosi in particolar modo dell'oro e dell'argento e vi avevo spiegato come in fase di liquidazione del mercato generalizzata anche questi beni in un primo momento possono tendere a soffrire. Diciamo che negli ultimi giorni l'argento si è comportato abbastanza bene. Sì gli ultimi due o tre giorni sono stati un po' negativi ma aveva raggiunto una situazione tecnica abbastanza attirata quindi un rientro è assolutamente fisiologico. Inoltre tra oro e argento il secondo rimane sicuramente sottovalutato rispetto al primo ha più potenzialità di recupero. Inoltre su questi metalli preziosi ha sicuramente pesato nelle ultime analisi, nelle ultime visioni anche il peso del dollaro che ha portato sempre un po' ad affossare questi beni. È previsto un rialzo dei tassi quest'anno, vedremo quanto un po' i prezzi l'hanno già scontato o meno. Il rialzo dei tassi si prevede diciamo per tre volte in maniera indicativa nel 2022 ma attenzione che nei prossimi meeting della Fed qualche scenario potrebbe cambiare. Quindi l'argento sicuramente può essere un'alternativa interessante magari non tanto in questo esatto momento ma verifichiamo se uno storno dovesse continuare e un ritorno magari su questi valori precedenti i 2003, 2003 e 40 potrebbe essere una base, un supporto interessante da cui ripartire. Quest'oggi però vi volevo parlare sempre di metalli, diciamo anche metalli preziosi perché il platino sicuramente rappresenta un settore di questo tipo ma anche del palladio. Infatti questi beni sì e anche l'argento vengono utilizzati come metalli preziosi ma fortemente anche come metalli industriali. Il prezzo del palladio un po' come anche per l'argento era sceso verso la fine dello scorso anno ma con la metà di dicembre si è ripreso piuttosto bene e sicuramente negli ultimi giorni ha avuto uno slancio positivo. Come vediamo l'RSI si è portato rapidamente in zona ipercomprato quindi potrebbe non essere il timing più giusto. Inoltre possiamo dire che il palladio viene utilizzato molto nel settore automotive quindi soprattutto nella costruzione di catalizzatori per quel che riguarda anche la riduzione delle emissioni di inquinamento di carburante. Detto questo c'è stata un po' una crisi per quel che riguarda i semiconduttori nell'ultimo periodo. Pertanto la domanda potrebbe anche rimanere abbastanza viva per i primi sei mesi dell'anno per poi vedere un progressivo rientro nei periodi successivi. Dall'altra parte il platino potrebbe avere una storia maggiormente positiva. Infatti se il palladio viene utilizzato principalmente nei veicoli leggeri che hanno avuto meno successo di quelli pesanti in cui viene utilizzato molto di più il platino. Quello che sto cercando di dire è che il platino potrebbe avere una maggiore domanda rispetto il palladio nel prossimo periodo quindi essere un po' la materia prima più vincente tra queste. Inoltre il platino ha sicuramente subito in termini di differenziale rispetto al palladio negli ultimi anni. Infatti se vediamo proprio lo spread diciamo dal 2016 fino a buona parte del 2021 il palladio ha sempre sovraperformato il platino. Poi durante diciamo il 2021 c'è stata questa ripresa. Pensiamo che questa ripresa possa continuare ad esserci e quindi una sovraperformance nel 2022 appunto del platino rispetto al palladio. Pertanto anche se in questo momento il timing non è magari dei migliori per un ingresso sicuramente l'argento e anche il platino possono essere degli asset interessanti su cui puntare nel prossimo periodo. Abbiamo una stagionalità positiva fino alla metà di febbraio quindi rimane questo uno scenario sicuramente interessante. Il periodo stagionalmente positivo non è più lunghissimo ma pensandolo come un investimento di medio-lungo termine possono essere delle alternative interessanti. Diciamo che agire su platino e palladio è un'azione che potrebbe risultare un poco più speculativa rispetto all'argento che tipicamente svolge un po' di più un'azione di bene e rifugio tipica molto dell'oro. pertanto anche i metalli possono rappresentare un'alternativa di investimento e rispetto alle granaglie ad esempio che abbiamo visto prima hanno sicuramente più spazio di recupero rispetto ai valori massimi. Pertanto continuiamo ad osservare anche queste soluzioni e non rimaniamo concentrati solo su un azionario che in questo momento può continuare a soffrire. Detto questo, questa vuole essere solo un'anticipazione un po' di tutte le analisi che andiamo a svolgere settimana dopo settimana specialmente all'interno del nostro Trading Club. Infatti ogni settimana andiamo a proporre delle nuove analisi delle nuove scelte di investimento sì sulle materie prime in senso generico ma molto anche per quel che riguarda il commodity spread. Pertanto se vuoi essere dei nostri capire sempre meglio il metodo come comportarti, come muoverti e avere anche un aiuto con delle esercitazioni delle simulazioni proposte ogni settimana diciamo che ti aspetto all'interno del Trading Club però in questo modo possiamo sicuramente confrontarci in maniera molto molto più completa e molto più dettagliata. Grazie per essere stato con noi anche quest'oggi vi aspetto nel prossimo video A presto!